Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e in sopporto di Alessandro Brunetti Terza puntata Dopo la lunga guerra fra Pisani e Fiorentini che terminò nel 1509 si ebbe la restaurazione della dinastia dei Medici a Firenze nel 1512 per volere degli spagnoli. Il cardinale Giulio dei Medici, uomo versatissimo nell'arte militare, comprese la necessità di trasformare Livorno in una vera e propria piazzaforte e a tal fine incaricò l'architetto Antonio D'Assangallo. Il progetto prevedeva la costruzione di una fortezza, detta poi vecchia, capace di contenere 5.000 soldati, fornita di bastioni e circondata dal mare, da erigersi nel punto militarmente più debole e più pericoloso del castello, vale a dire all'ingresso del suo porto. Questa costruzione, armoniosa di linee e potente di difesa, è una delle più belle progettata dall'architetto che fece delle sue fortezze capolavori di architettura del Rinascimento e insieme di arte militare. Così nel 1518 iniziò la sua costruzione, per la quale fu necessario abbattere gli edifici fatti costruire da Lorenzo il Magnifico alla fine del 1400. La fortezza chiude nelle sue mura il Mastrio di Matilde, la quadratura dei Pisani, raccogliendo quindi in sé tutti i monumenti della più vecchia tradizione marinare guerriera di Livorno. Fu completata nel 1530 dal duca Alessandro dei Medici, dopo un periodo di interruzione dovuto all'allontanamento dei Medici da Firenze. Fino a questo punto la storia del porto di Livorno è prettamente militare e il luogo è considerato una fortezza. Il duca Cosimo I, succeduto al duca Alessandro, aveva in mente la costruzione di un nuovo porto e di un canale navigabile. Il canale dei Navicelli abbreviava notevolmente il tragitto fra Livorno e Pisa, evitando il traffico via mare. La pericolosa e non facile entrata dei Navicelli a Bocca d'Arno univa veramente Pisa, sede di case commerciali, col porto di Livorno. Cosimo I, per dare incremento alla città, promulgò alcuni bandi, in funzione dei quali prometteva l'incolumità a tutti coloro che erano ricercati dalla giustizia, con la condizione di trasferirsi definitivamente a Livorno. I lavori di scavo del canale ebbero inizio nel 1541 e segnarono il principio della funzione economica di Livorno. L'opera, infatti, non era importante dal punto di vista militare, ma serviva per l'unione commerciale non solo di Livorno con Pisa, ma anche con l'entroterra toscano, cosa problematica per quel tempo, dato che non esisteva alcuna strada veramente carrozzabile. Il funzionamento regolare del canale si ebbe, come vedremo, sotto Ferdinando I. Il progetto prevedeva di impedire alle maree di penetrare nel canale, che doveva mantenersi pieno con l'acqua presa per mezzo di una cateratta dall'arno a porta a mare.